Irina, cosa sono io? Vedi una leva qui, vedi delle fragole, delle ciliegie e vomito monetine io? No, sono una slot machine io? No, cosa sono io? Sono un cavolino di Bruxelles che ha preso la scossa? Devo dire sì? No, sono un semplice uomo bello e basta, sono un parrucchiere no? No, ma deco uno oggi io? Ma perché tutti mi chiedono di fare in fretta? Perché tutti mi chiedono di fare tinta e me si impiega in dieci minuti? E' la terza oggi che viene e mi dice che devo fare tutto in dieci minuti, la terza che fra una lezione di spinning e la popata delle quattro vuole farsi la tinta? Ma fai poppare il bambino sulla bici dello spinning? Ma che vuoi da me? Ehi là! Buongiorno! E ce la fa a darmi una sistematina? Quanto tempo ha per tagliare? Il tempo che ci mette un chihuahua a cadere da uno scalino? Beh, adesso sono le tre e mezza. E' la popata delle quattro? Dunque, vediamo, fino alle sette le va bene? Ma chi se lo aspettava? Tre ore e mezza, ma la meraviglia! E sì, perché adesso passo un attimo in ufficio, poi vado dal notaio, se è aperta l'assicurazione faccio un salto anche lì. Poi porto a lavare la macchina, vado a prendere mio figlio a tennis, porto fuori il cane e arrivo. E scusi, ma quando glieli taglio i capelli? Beh, ma io glieli lascio.